Benvenuti in taverna e ben ritrovati nel quarto episodio della piccola serie di video volta a spiegare a tutto tondo le varie vocazioni presenti in Dragon's Dogma Dark Arisen. La volta scorsa abbiamo finito di parlare delle vocazioni base con l'arciere, oggi invece cominciamo il nuovo capitolo di questa serie di video con la nuova branca delle vocazioni avanzate. Potete vederle come l'evoluzione delle loro controparti base. E oggi ovviamente si parla del distruttore. Io sono Leech e benvenuti in un nuovo contorno della taverna. In Dragon's Dogma il distruttore è un combattente specializzato nel corpo a corpo che grazie alla sua tremenda resistenza e forza risulta essere una vera e propria macchina da guerra all'interno del combattimento. Le uniche armi che imbraccia sono quelle pesanti a due mani come spadoni e martelli da guerra, utilizzando quindi la forza come statistica principale per tutto il suo repertorio offensivo. E visto che il suo ruolo all'interno del gruppo è quello di essere sempre in prima linea, attirare l'attenzione e infliggere quanti più danni possibili, ciò implica che sotto il punto di vista difensivo indossi prevalentemente armature molto pesanti che offrono una buona difesa fisica e una buona protezione dagli abbattimenti, stordimenti e vari tumulti. Piccola chicca, l'intera vocazione del distruttore è ispirata a Guts di Berserk. Difatti nella vecchia versione del PlayStation 3 Xbox 360 si poteva ottenere l'intero set di armature più lo spadone. Ma tornando al discorso, mi aggancio proprio a questa piccola chicca per parlare di una delle caratteristiche uniche del distruttore, ovvero lo stato inarrestabile, dato che il distruttore, rispetto a tutte le altre vocazioni, presenta questa capacità unica che gli dona un enorme aumento di resistenza allo stordimento e all'abbattimento, quasi rendendolo immune. Ma non è tutto, dato che mentre attacca il distruttore diventa ancora più resistente al tutto, aggiungendo inoltre anche la resistenza ai venti, ai tumulti e tutti quei micro stordimenti che esistono. Infine, un'altra peculiarità del distruttore, che ritroviamo anche in minor parte nel guerriero e nel paladino, è quella di poter fare multi-hit mentre si effettuano molte delle manovre che ha a sua disposizione. Questo, come dice il nome stesso, consiste nel colpire più e più volte mentre si sta effettuando un'animazione, il che rende le lunghe e lente mossa dell'istruttore ancora più letali soprattutto quando ci si ritrova ad affrontare creature di taglia grande. Inoltre questo non si ferma qui, dato che questa cosa si trasmette anche alla possibilità di infliggere debilitazioni di status. Lo spadone in fiamme? Quel multi-hit verrà usato anche dalle fiamme. Quindi capite benissimo come il suo compito all'interno del gruppo sia molto semplice quanto efficace, ovvero generare caos all'interno delle file avversarie tramite i suoi potentissimi attacchi che risultano essere inoltre alcuni dei pochi in grado di distruggere strutture come le colonne. Ma ora, come di consueto, passiamo alla parte più concreta, ovvero i dati di gioco. Il distruttore è una delle tre vocazioni avanzate che potrete scegliere una volta arrivati a Grand Soren e una volta raggiunto il livello 10. Questa, nello specifico ovviamente, è la vocazione avanzata del guerriero e come potete vedere nelle tabelle a schermo, ha una crescita incentrata principalmente sotto il punto di vista fisico, spiccando verso gli HP, l'attacco fisico e la difesa fisica. Per fare un paragone, se un guerriero è leggermente più un tank, il distruttore è leggermente più un DPS, anche se ha comunque una quantità di HP e di attacco fisico molto più alti rispetto alla sua versione base che spicca invece un pelino di più sulla difesa fisica. Ma per entrare ancora più nello specifico, queste sono le tabelle di crescita di un distruttore. Come già detto in un altro video dove spiego come funziona l'aumento delle statistiche che troverete sotto in descrizione, esistono in breve tre range di livello dove le statistiche del vostro personaggio aumenteranno in modo differente. Questi range vanno dal livello 1 al 10, dall'11 al 100 e dal 101 al 200. Ma mettete pure in pausa il video per sbirciare per bene l'aumento delle statistiche di un distruttore puro con base da guerriero. Ma ora che abbiamo analizzato il suo role nel gruppo e il procredire delle sue statistiche, parliamo delle sue abilità e capacità di classe. Partendo dalle sue core skill abbiamo Squarcio. Bloccata fin da subito, questa è la combo di attacchi leggeri della vocazione del distruttore che può concatenare fino a tre colpi. I primi due consistono in grandi spazzate che colpiscono in un raggio di 360 gradi, mentre l'ultimo è un potente attacco dall'alto verso il basso che ha la capacità del multi-hit per tutta la durata della sua animazione. La peculiarità di questa abilità è che bisogna sempre colpire qualcosa per poter continuare la combo. Se usata in salto invece questa consisterà in una singola spazzata ad ampio raggio, la quale è molto utile per buttare a terra nemici volatili di taglia piccola. Per il resto ha un buon potere di sordimento e abbattimento. Trafiggere. Sbloccata fin da subito, questo è l'attacco pesante della vocazione del distruttore e consiste in un potentissimo affondo che ha un buon potere di sordimento, mentre se usato in salto si tramuta in un potente attacco in picchiata che ha la capacità del multi-hit e che riesce praticamente sempre ad abbattere creature di taglia piccola. Devastazione. Bloccata al primo rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la forma avanzata di squarcio e porta a 4 il numero di colpi sferrati dalla combo facendo di diventare tutti delle potente spazzate che risultano essere molto efficaci quando ci si ritrova ad affrontare molti nemici insieme. Questa si esegue premendo il tasto dell'attacco leggero, effettuando una breve pausa per poi riprendere la ripetizione del tasto dell'attacco. Anche questo, come la sua forma base, deve colpire qualcosa per poter continuare ad essere effettuata e ha la proprietà del multi-hit. Colpo sviscerante. Sbloccata al primo rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la forma avanzata di trafiggere e si migliora aggiungendo al potente affondo della sua forma base un secondo attacco che permette di estrarre violentemente l'arma facendo veramente molti danni al bersaglio che era stato trafitto. Questa si esegue tendo premuto il pulsante dell'attacco pesante e durante la sua seconda fase ha un potere di abbattimento veramente ottimo che viene solo potenziato dalla capacità del multi-hit, rendendo questo attacco veramente ottimo per poter abbattere creature di tutte le taglie. Piccolo consiglio, provatelo sul cuore dei draghi. Caduta controllata. Sbloccata al secondo rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la stessa che ritroviamo anche nella vocazione del guerriero e permette di rimettersi immediatamente in piedi in caso si venisse fatti volare via da un colpo nemico. Questa manovra si esegue premendo il tasto per saltare non appena si tocca il terreno. Questa è un'abilità molto utile per evitare di rimanere a terra in balia dei nemici per tornare immediatamente in combattimento ed è utile soprattutto per le pedine, dato che loro non sbaglieranno mai questo micro quick time event e saranno sempre e comunque pronte a tornare immediatamente in combattimento. E queste erano le core skills del distruttore che ci fanno capire fin da subito quanto il suo ruolo sia semplice quanto essenziale, dare e prendere botta più non posso assicurandosi di essere l'ultimo in piedi alla fine della battaglia. Ma passiamo ora alla lista di abilità che il distruttore può sbloccare e potenziare mentre avanza in questa vocazione. Come detto prima le uniche armi che utilizza sono armi pesanti a due mani e qui purtroppo, a differenza del mago e dello stregone che possono equipaggiare fino a sei incantesimi, il nostro caro distruttore non so per quale motivo può equipaggiarne soltanto tre. Se siete da PC fortunatamente questa cosa è risolvibile tramite l'ausilio delle mod, se siete da console purtroppo invece non si può fare niente. Per fortuna in Dragon's Dogma 2 questa cosa sarà risolta, ma andiamo subito a dargli un'occhiata. Sversa selvaggia. Sbloccata fin dall'inizio questa abilità sarà il punto focale a livello offensivo di un distruttore, dato che è semplice quanto efficace visto che permette di incalanare tutta la forza degli utilizzatori in un singolo e devastante colpo esplosivo. Per essere utilizzata richiede la carica della barra dell'abilità, ed è proprio qui che entra in gioco la sua peculiarità, dato che questa abilità ha tre tempistiche in cui può essere rilasciata. Se viene rilasciata troppo presto arricchierà un sesto del danno e avrà un tempo di recupero più lungo. Se rilasciata troppo tardi perderà 1500 punti di danno, mentre se rilasciata con un tempismo perfetto questa, oltre a fare il danno pieno, produrrà anche una potentissima onda d'urto che ha un potere di abbattimento e stordimento praticamente sicuro su tutte le creature che non sono state colpite direttamente dal colpo. Il rilascio perfetto è quel momento in cui la Risen si illumina di bianco. Parlando invece del danno, questo si divide in due parti. La prima parte ovviamente consiste nel colpo rilasciato che ha il danno di un attacco pesante accompagnato però da un ottimo potere di abbattimento e stordimento. La seconda parte invece consiste nell'onda d'urto generata che aumenterà di molto la sua potenza in base al tempismo con cui è stata rilasciata l'abilità. Tuttavia ha precisato che l'onda d'urto non scala sulla forza del distruttore e che ha dei valori ben precisi che vanno ad aumentare di pari passo con il potenziamento dell'abilità. Però ci aggiungo anche una piccola chicca da veterano visto che l'onda d'urto è uno dei pochi danni che riesce a causare danni ambientali. Difatti un rilascio perfetto potrà distruggere depositi di minerali, strutture e affini con un singolo corpo. Mentre negli altri ce ne vorranno ben tre. Colpo d'Elsa. Sbloccato al primo rango della vocazione del distruttore questa abilità è semplice quanto utile da parecchi punti di vista. Nel suo atto pratico consiste in un velocissimo colpo di Elsa che infligge pochi danni ma che ha un ottimo potere di stordimento. Questa sua capacità sotto il punto di vista offensivo può essere utilizzata per iniziare le combo dato che lo stordimento generato dà molto più margine di tempo per attacchi lenti e potenti. Mentre sotto il punto di vista difensivo grazie alla sua velocità questa abilità è estremamente utile per intercettare e stordire i nemici che stanno attaccando. Ma la sua utilità non finisce qui. Dato che come Tempesta di Scudia e il Guerriero anche questa abilità può essere utilizzata in serie per colpire molteplici avversari, per rompere difese o per arrivare addirittura a buttare a terra gli avversari che ricevono il colpo. Quanto detto inoltre scala direttamente con la potenza dell'inguaggiamento. Quindi avere una buona arma potenzierà e infliggerà praticamente al 100% quanto detto finora tutte le creature di taglia piccola e media. Infine piccola chiccata veterano. Questa abilità può essere usata come una sorta di piccolo reset dopo ogni animazione riuscendo ad accorciare di moltissimo tutte le animazioni di recupero di un distruttore. Colpo ascendente. Sbloccata al primo rango della vocazione del distruttore, questa abilità permette all'utilizzatore di impalare una creatura per poi successivamente cercare di sbalzarla in aria con un montante. Il secondo attacco di questa abilità cambia la propria utilità in base a chi la subisce, dato che nel caso di una creatura di taglia piccola o media questo molto probabilmente si ritroverà semplicemente sbalzata in aria in balia degli eventi. Mentre per chi è difficile da schiudare dal terreno questa abilità prende tutta un'altra piega, dato che si venderà in pieno tutta la componente offensiva del montante che oltre ad avere un buon danno ha anche un'ottima capacità di distordimento e abbattimento, rendendo questa abilità molto utile contro le creature giganti. Fendente in schivata. Sbloccata al secondo rango della vocazione del distruttore, questa abilità è una delle poche manove difensive di un distruttore e permette all'utilizzatore di effettuare una schivata che viene eseguita immediatamente da una piccola spazzata. La schivata rende l'utilizzatore invulnerabile per tutta la sua durata, mentre la spazzata ha un buon potere di sordimento in grado di bloccare l'offensiva enemica per poi guadagnare un'apertura. Lama della scala. Sbloccata al secondo rango della vocazione del distruttore, questa abilità è di pura utilità, dato che, come trampolino del guerriero, permette all'utilizzatore di proiettare in aria i compagni di squadra, ma a differenza del guerriero, il distruttore può lanciare fino a tre persone contemporaneamente. Questa gente è una di quelle abilità interessanti ma che per via dei pochi slot a disposizione viene spesso per giusti motivi accantonata. Inoltre, c'è da dire che questa abilità è molto più utile se equipaggiata da una pedina, visto che, a differenza del giocatore che può solo proiettare verso l'alto, loro possono usare questa abilità per lanciare letteralmente la Risen in groppa a un mostro, visto che loro possono mirare durante l'utilizzo. Sfersa Indomita. Sbloccata al terzo rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la forma avanzata di Sfersa Selvaggia, che potenzia l'abilità sotto ogni punto di vista, modificando inoltre i vari bonus che si ottengono in base al tipo di rilascio. Rilasciando troppo presto si toglieranno 1500 punti di danno, rilasciando troppo tardi si infiggerà un danno normale e rilasciando con un tempismo perfetto si guadagneranno 1000 punti al danno e sbloccando inoltre ora la capacità di poter effettuare multi-hit per tutta la durata dell'animazione. A fondo selvaggio. Sbloccata al terzo rango della vocazione del distruttore, questa abilità permette all'utilizzatore di caricare in avanti ad arma protesa stordendo e abbattendo tutte le creature colpite, terminando infine con un potente montante che viene sferrato con l'elsa. La carica si può annullare in qualsiasi momento premendo il tasto del salto, facendo partire subito il montante finale. Per il resto questa è un'abilità più utile a creare scompigli opportunità all'interno di un combattimento, dato che nell'effettivo infligge pochi danni di natura fisica. Difatti se avete un'arma incantata ci sarà una buona probabilità di infliggere debilità azioni di stato. Infine piccola chicca da veterano. Il montante finale si può utilizzare fin da subito se premete il tasto del salto immediatamente dopo aver utilizzato l'abilità. Facendo ciò non solo colpirete immediatamente con un attacco che ha un altissimo potere di abbattimento e stordimento, ma inoltre non consumete nessun punto di stamina per via della carica. Schianto d'elsa. Sbloccata al quarto rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la forma avanzata di colpo d'elsa e potenzia l'abilità sotto ogni punto di vista aumentando potere di abbattimento e stordimento che adesso mettono in difficoltà anche creature giganti. Fendente scintilla. Sbloccata al quarto rango della vocazione del distruttore, questa abilità permette a chi la utilizza di colpire con un fendente tutte le creature in un raggio di 360 gradi. La sua principale utilità è quella di buttare a terra le creature di taglia piccola che subiranno sempre l'abbattimento. Contro le creature giganti invece è parecchio inutile dato che andrà sempre a colpire tutti quei punti dove l'attacco non risulta essere efficace. Fendente turbinante. Sbloccata al quarto rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la forma avanzata di colpo ascendente e, oltre a potenziare l'abilità sotto ogni punto di vista, aggiunge anche un terzo attacco dall'alto verso il basso che si concatena al montante della forma base. Questo travere un ottimo potere di abbattimento è anche molto utile quando ci si ritrova in mezzo a molteplici nemici o contro creature che occupano tanto spazio. Gesto d'ammenda. Sbloccata al quinto rango della vocazione del distruttore, questa abilità permette a chi la utilizza di mettersi in una posa di contraattacco dove ogni danno che verrà ricevuto andrà a potenziare il colpo che verrà rilasciato. La potenza di questo si potrà notare intensità e dal colore della fiamma che piano piano andrà a inghiottire l'utilizzatore fino a diventare di un rosso acceso. Mentre in questa posa l'utilizzatore non può muoversi e diventa molto più resistente agli estordimenti e abbattimenti, tuttavia non diventa invulnerabile. Il colpo rilasciato invece sarà un grande attacco circolare che ha un enorme potere di estordimento e abbattimento e che infiggerà i danni ricevuti durante la carica moltiplicati per tre, ignorando inoltre tutte le difese fisiche del bersaglio. Tuttavia c'è da precisare che il danno pieno lo prenderà solo il primo bersaglio colpito. Urlo di battaglia. Sbloccata al quinto rango della vocazione del distruttore, questa abilità è come tamburo di scudo del guerriero e permette all'utilizzatore di mettere un potente ruggito che attirerà le ire di tutti gli avversari a portata che riescono a sentirlo. È ottimo per togliere fastidio ai compagni o per cominciare ad aggruppare i nemici prima di falciarli. Lama catapulta. Sbloccata al quinto rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la forma avanzata di lama della scala e semplicemente aumenta la distanza a cui si lanciano i compagni. Fendente dell'esodo. Sbloccata al quinto rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la forma avanzata difendente in schivata e, oltre a potenziare l'abilità sotto ogni punto di vista, permette ora, ripremendo il comando assegnato, di rientrare immediatamente in combattimento dalla schivata facendo un rapido colpo di Elsa che viene subito seguito da un attacco dall'altro verso il basso con l'arma. Il colpo d'Elsa è molto simile a quello di schianto d'Elsa, mentre il colpo effettuato, oltre a infliggere molti danni, ha anche un potere di abbattimento molto buono. Arco della potenza. Sbloccata dal sesto rango della vocazione del distruttore, questa abilità è il colpo più letale di un distruttore, e consiste nel caricare l'energia per un lungo periodo per poi rilasciare un micidiale fendente definitivo. Il caricamento dura circa 10 secondi, e si può annullare in qualsiasi momento saltando, e nonostante doni al distruttore una resistenza all'abbattimento allo stordimento aumentata, questo ha comunque bisogno di essere protetto da possibili interruzioni soprattutto durante i primi livelli. A rilascio il colpo sferrato si divide in due parti. La prima, e principale, è una grossa zona verticale che viene direzionata verso dove si sferra il colpo. Questa ha un danno che si aggira circa 4-5 volti, il danno di una sferzata indomita rilasciata con un tempismo perfetto, e ha un enorme potere di abbattimento e stordimento che riuscirà sempre a far volare in cielo le creature di taglia non gigante che molte volte subiranno anche dei danni da caduta. L'altra parte del danno invece viene generata da due onde d'urto che vengono spigionata, una vicina dove cade il colpo principale, e un'altra tutto intorno al distruttore. La prima, di minori dimensioni, ha un alto danno di natura esplosiva, molto simile all'incantesimo pioggia di meteore dello stregone. Inoltre può stordire e abbattere le creature che colpisce. La seconda invece è molto più grande. E pur non facendo molti danni, ha comunque un alto potere di sordimento che può inoltre infliggere debilazioni di status derivanti dall'arma che si sta utilizzando. Quindi come potete notare questa abilità è molto forte. Volete dire un bel colpo come si deve? Questa abilità fa proprio al caso vostro. Fendente Faville, sbloccata al sesso rango della vocazione di distruttore, questa abilità è la forma avanzata di Fendente Scintilla, e, oltre a potenziali abilità sotto ogni suo punto di vista, aumenta di moltissimo l'area di effetto della spazzata che viene raddoppiata. Affondo Indomito, sbloccata al sesso rango della vocazione di distruttore, questa abilità è la forma avanzata di affondo selvaggio, e oltre a potenziali abilità sotto ogni punto di vista, aumenta di molto la distanza percorsa dalla carica e la velocità con cui si esegue. Gesto di Vendetta, sbloccata al settimo rango della vocazione di distruttore, questa abilità è la forma avanzata di gesto d'ammenda, e oltre a potenziali abilità sotto ogni suo punto di vista, aumenta il moltiplicatore e il danno a un 4x. Ma qui voglio aggiungere una piccola grande chicca da veterano, dato che esiste in maniera indiretta una versione ancora più potente di questa abilità chiamata gesto dell'esecuzione, che riesce ad uccidere con un colpo solo qualsiasi creatura nel gioco. Per fare ciò vi servirà la capacità tenacia che potete trovare purificando i monili di nero abisso a livello 2 nel DLC di nero abisso. Questa permette di poter sopravvivere con un HP a qualsiasi colpo che sarebbe invece dovuto essere fatale. Tramite questa cosa, un distruttore può assorbire il danno ricevuto all'incantesimo Requiem per poterlo rimandare indietro. Calcolate che questa cosa riesce a fare fuori con un colpo solo la morte che gira per nero abisso. Urlo di guerra, sbloccata al settimo rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la forma avanzata di urlo di battaglia e semplicemente aumenta la città da cui si attraggono gli avversari. Arco della possanza, sbloccata all'ottavo rango della vocazione del distruttore, questa abilità è la forma avanzata di arco della potenza e potenzia l'abilità sotto ogni punto di vista aumentando danni, grandezza dei vari attacchi e potere di abbattimento e stordimento. Sferza selvaggia, sbloccata equipaggiando l'anello del distruttore o la fascia del distruttore che potete trovare nel DLC di nero abisso, questa abilità è la forma finale dispersa indomita e richiede la carica della terza barra per poter essere utilizzata. Come le sue precedenti versioni, anche questa ha vari bonus in base al tipo di rilascio. Rilasciando troppo presto si infliggerà un danno normale, rilasciando troppo tardi si avrà un bonus di 1000 danni e con un tempismo perfetto si avrà infine un bonus di 2000 danni. Per il resto l'abilità verrà potenziata sotto ogni punto di vista tra danni in base e potenza di abbattimento e stordimento. Affondo letale, sbloccata equipaggiando l'anello del distruttore o la fascia del distruttore che potete trovare nel DLC di nero abisso, questa abilità è la forma finale di affondo indomito e potenzia anche la velocità di esecuzione, distanza percorsa e potere di abbattimento e stordimento. Fendente-lampo, sbloccata equipaggiando l'anello del distruttore o la fascia del distruttore che potete trovare nel DLC di nero abisso, questa abilità è la forma finale di fendente-faville, potenzia l'abilità sotto ogni punto di vista aumentando di moltissimo la portata della spazzata. Arco della distruzione, sbloccata equipaggiando l'anello del distruttore o la fascia del distruttore che potete trovare nel DLC di nero abisso, questa abilità è la forma finale di arco della bossanza e oltre a potenziare l'abilità sotto ogni punto di vista aumenta anche la velocità di movimento durante la carica. E questo era tutto per quanto riguarda le abilità del distruttore. Come potete notare spaziano principalmente dalla pura offensiva e il crowd control mantenendo però aperti un paio di spiragli per la parte difensiva. Insomma il distruttore è ciò che volete giocare se cercare di essere il toro del gruppo. L'unica pecca risiede nel suo limite a tre abilità equipaggiabili che davvero non capisco e che sicuramente vedremo sistemato in Dragon's Dogma 2. Ma dopo questa megalista passiamo infine all'ultima branca di cose sbloccabili della vocazione del distruttore, ovvero le capacità che come sappiamo sono condivise da tutte le vocazioni del gioco. Quindi una capacità sbloccata con il mago sarà utilizzabile anche dal guerriero, dal ranger o chiunque sia. Ma vediamo cosa ad offrirci il distruttore. Bastione, sbloccato al primo rango della vocazione del distruttore, questa capacità riduce di un certo ammontare tutti i danni di natura fisica che si ricevono. In modalità normale l'ammontare di 50 punti, in modalità difficile di 225 e di 112 mentre si è nel DLC di nero abisso in modalità difficile. Questa capacità è molto semplice quanto utile dato che rende ancora più inarrestabile un distruttore che oltre a subire meno danni sarà ancora meno suscettibile ai vari stordimenti e abbattimenti che potrebbe subire da attacchi molto potenti. Ovviamente questo si può sommare ad altre capacità affini per migliorare ancora di più la difesa. Ferocia, sbloccata al terzo rango della vocazione del distruttore, questa capacità aumenta del 10% la potenza di tutte le core skill offensive sia di natura fisica che magica, tendendo ancora più devastanti i normali attacchi di un distruttore. Anche questo può andare in combo con altre capacità affini ed è tremendamente buono per qualsiasi vocazione. Audacia, sbloccata al settimo rango della vocazione del distruttore, questa capacità, come dice la descrizione, serve a rendere l'utilizzatore molto più resistente agli abbattimenti e agli estordimenti, riducendo l'accumulo di questi stati di circa il 15%. Qui apro una piccola parentesi finale sull'argomento. Dato che all'interno del video sicuramente si sarà capito, ma come funziona nel pratico tutta la questione degli estordimenti e abbattimenti? Ebbene, una cosa è molto semplice. Ogni qualvolta una creatura riceve dei danni fisici, una percentuale di questi si va ad inserire all'interno di due barre di status invisibili che costantemente vanno a ridursi nel tempo. La capacità di questa è estremamente dinamica poiché varia in base a moltissimi aspetti di tutto il gameplay, tra preso trasportato, stazza, terreno, status da cui si è affetti, tipi di colpi subiti e così via dicendo. Ovviamente il riempimento di queste barre avviene in uno dei due status. Ora l'ho spiegato molto rapidamente, ma capite benissimo come questa capacità insieme a bastione possa rendere un distruttore con tutti i suoi bonus di vocazione naturali una vera e propria macchina senza freni che può prendere colpi su colpi senza vacillare. Temerarietà. Sbloccata al settimo rango della vocazione del distruttore, questa capacità, come dice la descrizione, è molto semplice dato che di mezzo a tutti i danni ricevuti mentre si carica un attacco che non sia un incantesimo. Per quelli c'è la controparte magica. Ma capite bene che dopo tutto quello che abbiamo detto, questa capacità è praticamente la cilieginia sulla torta per quanto riguarda la parte difensiva di un distruttore. Tuttavia piccola chicca da veterano, dato che i più attenti avranno notato come io abbia detto che questa capacità si attiva per tutti quegli attacchi caricati che non sono incantesimi. Ebbene sì, può essere utilizzata anche per gli attacchi caricati di natura fisica di tutte le altre vocazioni come un cacciatore o un arciere. Impatto. Sbloccata all'ottavo rango della vocazione del distruttore, questa capacità è molto semplice e dato che aumenta del 30% il potere di abbattimento degli attacchi di natura fisica rendendo ancora più forti tutte le cose di cui abbiamo parlato. Colpo possente. Sbloccata al nono rango della vocazione del distruttore, questa capacità è molto semplice e dato che aumenta del 20% la forza di chi la utilizza. Ovviamente può essere utilizzata in combinazione con altre capacità affini per aumentarla ulteriormente. Tuttavia tenete sempre a mente che il bonus massimo che potete avere su una statistica è dell'80%. Maestria. Sbloccata al nono rango della vocazione del distruttore, questa capacità riduce del 25% la stamina utilizzata quando si esegue un'abilità di natura fisica. Tuttavia a differenza di altre capacità affini, tale bonus non funziona su archi corti e archi lunghi. E questo era tutto quello che c'è da sapere sul distruttore, qual è il suo potenziale, cosa da offrire, qual è idealmente il suo ruolo e così via. Quindi in caso il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento e iscrivervi che sono cose che danno sempre una gigantesca mano. Ma come di consueto piccolo momento di spam personale. Sotto in descrizione troverete il mio link da affiliato a Istan Gaming, HRK e Amazon e acquistando tramite quei link potrete supportarmi in modo completamente gratuito trovando inoltre tantissimi giochi e software a poco. Se volete invece supportarmi direttamente potete unirvi alla gang dei corgiotti tramite il mio canale Twitch. Questo vi darà accesso ai piccoli dietro le quinte, grafiche per le live e anche l'accesso ai video e serie offline in anteprima. In caso, grazie di cuore. Inoltre mi trovate in live sul sito Viola ogni settimana da lunedì al venerdì dalle 22 in poi, ovviamente salvo casini. Quindi in caso volete passare a fare un saluto siete più che benvenuti. Io sono Leach e la taverna sta chiudendo. Grazie a tutti dell'attenzione e al prossimo video.